Questi quarzi ametrini sono in poche parole dei quarzi composti per una parte dal quarzo viola ametista e da una parte invece dal quarzo giallo citrino. E buongiorno appassionati di gemme, il mio nome è Matteo e vi do il benvenuto all'interno del mio canale YouTube, luogo dedicato alla mia passione, al mio lavoro. Nell'arco di questo video, il quale fa parte di una playlist più ampia, andiamo insieme a visionare un lotto di minare i grezzi. Infatti, come potete immaginare, all'interno del mio laboratorio artistico i materiali principalmente che utilizzo sono minerali naturali. Alle volte questi sono trattati, alle volte invece non sono trattati. Il trattamento, spesso e volentieri, è per migliorarne il colore oppure le caratteristiche tecniche, in poche parole tutte le caratteristiche fisiche. Lo smeraldo, spesso e volentieri, viene oliato. Questo trattamento permette di mimetizzare le naturali fratture all'interno dello smeraldo in maniera tale da migliorare l'aspetto finale della gemma. In questo caso specifico, invece, nel video di oggi, andremo a visionare un lotto principalmente di quarzi, più alcuni minerali grezzi incogniti. In ogni caso, è fondamentale per lo sfaccettatore, o comunque con i quali desideraosi come voi, di provare questa esperienza qui nel mio laboratorio, oppure di costruire un laboratorio delle sfaccettatrici a casa vostra, è necessario possedere dei minerali grezzi di partenza. E la comprensione di questi minerali grezzi aiuta tantissimo all'interno di tutto il processo di taglio. Quindi colore, trasparenza, dimensione, rarità del materiale sono solo alcuni dei fattori fondamentali per scegliere il minerale giusto in partenza e di conseguenza riuscire a produrre e realizzare la gemma di maggior valore possibile. Ovviamente è una grande soddisfazione per tutti i colori quali si avvicinano con un fine ubistico-matoriale e invece è una vera e propria sfida per tutti i colori quali invece sono di professionisti e desiderano marginare sul loro lavoro. Daniele è un mio fan e desidera sapere se ha fatto un buon acquisto o meno, è anche un mio studente ed è per quello che acquista minerali online, ben sapendo e ben conscio che si potrebbero ottenere delle fregature e delle truffe come in alcuni video su questo canale vi ho portato a conoscenza, oppure si possono effettivamente avere dei buoni acquisti. Sapete in ogni caso che un materiale grezzo di partenza è fondamentale per realizzare una bella gemma alla fine. Bisogniamo ora con attenzione questo piccolo lottino, il quale aggiungerò in collezione aspettando che Daniele venga al mio laboratorio per le sue lezioni di taglio. Infatti spesso volentieri chiedo proprio ai miei studenti di portare minerali che possono acquistare online perché già l'acquisto di per sé è una parte fondamentale della lezione. Molti dei miei studenti proseguono successivamente le lezioni qui nel mio laboratorio la loro carriera sia ubistica amatoriale oppure professionale e quindi è necessario che imparino fin da inizio quale è un minerale grezzo di valore, quale invece è un minerale grezzo da lasciar perdere e non acquistare. Che questo sia su internet oppure sui banchi di una fiera. In questo lotto ci sono all'interno diversi minerali, alcuni di quali più di valore e altri meno di valore. Andremo a vederli con più attenzione nel corso di questo episodio. Ma in ogni caso il grosso di questo lotto è composto da questo quarzo ametista. Ci sono ancora queste due ametistine. Questi sono i cristalli di quarzo presenti intorno a questo lotto. Vi è anche un piccolo citrino, dalquanto carino, dalquanto bellino. Vedete che ha questo colore, quasi pesca. Questo lo mettiamo da parte. Vi è un altro citrino molto simile che in questo caso qui. Perché la maggioranza delle ametiste, tranne questo caso qua, è una bellissima ametista viola, probabilmente dal Mozambico, sono dei quarzi ametrini. Qua c'è un'altra ametista del Mozambico che separiamo subito. Questi quarzi ametrini sono in poche parole dei quarzi composti per una parte dal quarzo viola ametista e da una parte invece dal quarzo giallo citrino. E sono molto carini in quanto poi una volta realizzandone delle gemme si nota questa differenza di cromatismo. Qui diciamo che vi è un bellottino. Insomma Daniel ha fatto un ottimo lavoro. In questo caso specifico si ricerca una saturazione, in poche parole un colore intenso. E soprattutto la posizione dei due cromatismi è molto importante. Questo forse è uno dei cristalli di maggior pregio, proprio perché vedete come il cromatismo è sostanzialmente lungo l'asse di questo stesso cristallo. Perché? Perché realizzare delle gemme da questo materiale significa cercare di recuperare tutto il materiale grezzo possibile e tralasciare il meno possibile durante il taglio. Proprio perché altrimenti vengono delle gemme molto piccole pagando a peso materiali invece molto grandi. Questa invece vedete è una gemma un po' sfigata perché non ha proprio una forma molto riconducibile. Quando io vedo i grezzi cerco già di intravedere i design che posso adoperare al proprio interno per riuscire a estrarre il maggior pregio possibile dalle gemme. Questo di nuovo in caso è un po' bruttino perché c'è molto spreco nel taglio. Qui abbiamo invece dei materiali misti. Abbiamo due corindoni varietà zaffiro alquanto bellini. Questi non sono proprio da taglio diciamo. Questi probabilmente si aggiungeranno semplicemente in collezione proprio grazie alla loro bellezza intrinseca. Sono i minerali non dico rari però molto duri e per i passionati di minerali sono comunque un'aggiunta interessante. Qui abbiamo un paio di minerali incogniti. Abbiamo probabilmente un quarzo rosa. Lo vediamo da questa frattura concoide molto tagliente. Qui invece abbiamo probabilmente un vetro. Secondo me vedete questa frattura tipica proprio del vetro in questo angolo qua. Questo non saprei proprio cosa può essere se non è di nuovo un materiale artificiale. Probabilmente un vetro. Qui invece abbiamo un minerale incognito. Fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Dolcisi in fondo abbiamo una piccola apatite e probabilmente una piccola spessartina o in ogni caso un granato, una varietà di granati. In ogni caso il grosso dell'otto è composto da questi minerali. Gli altri invece gli sono stati regalati. Secondo me i minerali di maggior pregio e valore sono queste due metiste. Probabilmente provenienti dal Mozambico e hanno un peso di 12 carati e mezzo. Diciamo che da questi due metiste secondo me questo qua più grande e soprattutto pesa all'incirca 8 carati abbondanti è possibile estrarvi almeno 2-3 carati di gemma. Hanno un colore veramente molto intenso, un viola elettrico e questo viola è molto ricercato in quanto poi dà anche l'interno dei colori tendenzialmente sul blu una volta che la voce rifrange dentro la gemma terminata. Questi invece i due quarzi citrini siamo all'incirca sui 9 carati abbondanti. Ametrini, in poche parole anche il quarzo ametrino, il nome deriva da citrino e ametista quindi ametrino, vanno oltre i 20 grammi. Cambiamo bilancia, pesiamo i nostri ametrini e siamo sui 31 grammi. Diciamo che 31 grammi sono all'incirca 150 carati, secondo me non è malaccio. Si parla in circa di 10 centesimi a carato per quanto riguarda questo materiale, quindi 50 centesimi al grammo. Per osservare meglio la trasparenza poniamo i cristalli sopra la tavola retroilluminata per vedere al proprio interno la presenza potenziale di fratture che in questo caso noto che sono assenti. Anche i centri di colore, in poche parole, le posizioni entrano in cristallo dove il colore tende a essere più concentrato. Probabilmente questi due cristalli sono quelli con una saturazione maggiore a cui seguono in poche parole questi due qui e di conseguenza gli altri. In generale i cromatismi non sono molto elevati, questo diciamo che è l'otto principale di cui questo video fa parte. Diamo un occhio veloce anche per quanto riguarda l'ametista del Mozambico, secondo me assolutamente degna. Mi sembra addirittura che l'intensità del colore sia molto elevata. Bisognerà vedere se effettivamente una volta realizzate delle geme a questo materiale qualcosa al proprio interno brilla perché sembra talmente saturo da essere quasi opaco. Questo vedremo quando poi taglieremo. Chiudiamo quindi questa nice da trasparenza sulla nostra apatite, anche questa è un'intensità assolutamente elevata, si chiama saturazione in gergo e di conseguenza su questo granato che come vedete è più opaco che trasparente. Qua probabilmente la gemma non ne esce molto bene. E quindi le nostre due iddeniti che sono sempre più convinto siano iddeniti, sia per la loro forma sia per il loro colore soprattutto di questi materiali. E' il momento in cui ragazzi fosse curiosi di altri minerali grezze, le proprietà essenziali, vi lascio qui in anteprima un video che ho dedicato solamente alla famiglia dei berilli. La famiglia che qui interno si possono trovare minerali alquanto importanti e preziosi come per esempio lo smeraldo, l'acquamarina, la morganite, l'eliodoro o anche molti altri. Quindi vi lascio qui il video in anteprima e noi ci vediamo in un prossimo episodio.